... Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo parlare di impiantistica sportiva. Da due settimane sono riprese le gare al Palavazzieri e una nostra truppa ha seguito sia il debutto del campo basket che dell'NBC nel campionato di Serie C regionale. Davvero scandalose le condizioni in cui versa la tribuna stampa, se così possiamo chiamarla. Le immagini che vi proponiamo sono più eloquenti di qualsiasi commento. Le potete seguire da soli. Sono immagini di una tribuna stampa o presunta tale del Palavazzieri assolutamente devastata dal tempo e dalla sporcizia. Ci sono escrementi, addirittura carcasse di uccelli morti. Insomma una situazione davvero paradossale. Il comune di Campobasso ha riaperto l'impianto ma sicuramente non ha pensato a pulire, a dare una pulita anche alla tribuna stampa che serve evidentemente alle televisioni, alla carta stampata per seguire le partite di basket delle squadre del capoluogo. Le immagini ribadiamo sono assolutamente eloquenti in proposito. Sarebbe bastato chiamare un'impresa di pulizia e dare una pulita, dare una sgrassata prima che iniziavano i campionati. Ma figuriamoci se l'assessore allo sport del comune di Campobasso, De Benedittis, se il sindaco di Bartolomeo, potevano mai mettere in agenda una circostanza del genere. Evidentemente hanno altro da fare. Loro che cercano di risolvere tutte le situazioni di impiantistica relativa allo sport, naturalmente soltanto a parole perché poi nei fatti gli impianti sono quelli da decenni a Campobasso e non hanno avuto nessun progresso sotto il profilo né strutturale né della manutenzione ordinaria. Insomma si dovrebbe vergognare veramente il comune di Campobasso che è proprietario dell'impianto e che gestisce l'impianto di una situazione del genere che non è la prima e purtroppo non sarà nemmeno l'ultima. Ma un po' di vergogna dovrebbero provarla certamente gli amministratori del municipio di Campobasso. E' stato inaugurato ieri il nuovo Napoli Club Passion Campobasso, la nuova sede dei tifosi partenopei e in via San Giovanni 62 vicino al Terminal. Il club conta già 70 iscritti e offre la possibilità di assistere alle gare dei partenopei presso la sede e con giornate organizzate al San Paolo e in trasferta. Per l'occasione diversi gli ospiti d'onore, Diego Armando Maradona Junior, ex giocatore del Venafro e di tante altre squadre dell'Interland napoletano, l'ultra storico dei partenopei Gennaro Montuori, oltre a vari esponenti del Napoli Club nazionale. Calcio di Serie D. A Di Serna sembra rientrata la crisi di risultati. Quattro punti nelle ultime due giornate. Il direttore sportivo Carmine Palumbo ha chiarito con la società ed ha avuto l'ok per alcune trattative di mercato. Oggi dovrebbe firmare Caputo, ex attaccante del Matera e della Salernitana. Manca poco anche al transfert dei due francesi. Mentre sono ancora lunghi i tempi per i due under giapponesi. Inoltre dovrebbero arrivare anche alcuni difensori. La vittoria contro il Sulmona ha riportato un attimo di serenità in casa Termoli, ma i giallorossi sanno che non devono perdere la concentrazione. Da oggi si inizia a preparare la trasferta di fermo. Una squadra a quota 8 che nelle gare precedenti se l'è sempre giocata a viso aperto. Ai nostri microfoni il portiere Patania. Alberto Patania, altra partita quasi inoperoso. Diciamo che loro poche volte hanno tirato in porta. Parte quel gol che il Termoli ha regalato, poi quel rigore che hanno contestato. Alla fine diciamo che tu sei stato comunque inoperoso quasi tutta la partita. Sì, hai ragione perché merito alla mia difesa che oggi si è comportata di reala grande. Non abbiamo subito assolutamente niente, tranne purtroppo il gol per una disattenzione difensiva che è stato un errore, però purtroppo sono cose che succedono. L'importante è che abbiamo portato a casa i tre punti. Festeggerete con Di Mercurio? Secondo gol per lui, sono tanti. Sono contento perché un ragazzo sta facendo benissimo, quindi non c'è bisogno che lo dico io. Si vede in campo, si vede, è un professionista, merita altre categorie ed è soprattutto anche un amico. Stringete i denti perché è una squadra che sta cambiando un po' a volto, strada facendo con l'arrivo di Giacomarro. Queste vittorie a denti stretti servono soprattutto per il futuro. Sì, hai ragione sicuramente perché non è facile quando inizi la preparazione con un allenatore e poi subito all'improvviso ne arriva un altro, ma soprattutto per chi non lo conosce. Noi lo conoscevamo perché ero qui dall'anno scorso, quindi i ragazzi nuovi devono seguirlo, devono imparare le cose che dice lui, quindi non è facile, però pian piano stiamo riuscendo a dimostrare quello che lui ci insegna. Con il morale diverso, sicuramente più alto, andate in trasferta domenica prossima a fermo. Vincere aiuta a vincere, quindi è la medicina migliore. Andremo a fermo sempre per fare la nostra grande partita e per ottenere sempre bottino pieno come dobbiamo fare in ogni campo. E' crisi ad Agnone, quattro sconfitte consecutive nelle quali sono stati incassati ben 13 gol. Serve probabilmente intervenire sul mercato il direttore sportivo dei Granata, Sabelli, ai nostri microfoni. Il direttore Maurizio Sabelli, una partita così, insomma, lascia la mano in bocca, 3-0 dopo un'ora di gioco. Ecco, secondo lei che cosa è successo in quegli ultimi incredibili 20 minuti di gioco? Ma diciamo che è successo quello che chiaramente nessuno si aspettava in quel momento della gara. Certamente, anzi, devo dire che il primo tempo, secondo me, loro hanno girato meglio del secondo tempo, parlo della Reganatese chiaramente. Mentre il primo tempo loro hanno orchestrato belle azioni, sono stati molto pericolosi, però non hanno girato mai lo specchio alla porta. Contrariamente al secondo tempo, sul 3-0, loro hanno smesso di giocare, secondo il mio punto di vista, hanno cercato di puntare molto su palle alte, su Galli, che spizzava per norma. Lì sono molto bravi, sicuramente sono due attaccanti fisicamente e tecnicamente molto forti e noi abbiamo commesso, purtroppo, errori, diciamo, sia sotto l'aspetto mentale, ma soprattutto anche sotto l'aspetto di posizione, perché sapevamo che loro giocavano così sulla spizzata, quindi bisognava magari andare più sull'uomo loro che faceva il movimento senza palla. Purtroppo è successo così, abbiamo preso quattro gol, direi quasi tutto allo stesso modo. Abbiamo commesso qualche errore individuale, ma questo purtroppo, lo sappiamo, si verifica puntualmente, perché se no non si giustificano tre o quattro golle a partito ogni domenica. Però, ripeto, adesso è un momento difficile, è un momento che richiede unità di intendi, compattezza, riflessioni, dobbiamo essere molto razionali, per cui dobbiamo riflettere su quello che c'è da fare. Quello che chiedo, l'ho detto anche alle altre emittenti, ai vostri colleghi, in questo momento adesso bisogna dimostrare veramente l'affetto e il sostegno verso questa squadra, che, ripeto, io oggi mi sento di ringraziare i ragazzi, nonostante abbiamo perso una partita in questo modo, però bisogna anche dire che siamo scesi con quattro ragazzi, faccio anche i nomi, Litterio, Pifano, Rolli e Ricamato, sono scesi in campo con delle punture. Questo fa dimostrare che loro sono gli ultimi a rendersi a questo momento di difficoltà, dobbiamo reagire tutti quanti insieme. La società sa che cosa deve fare, sicuramente ragioneremo un attimino con l'allenatore, ma sappiamo più o meno quello che dobbiamo fare. Certamente avremmo dovuto farlo e voluto farlo in settimana, cercando di portare a casa questa vittoria, che ci avrebbe dato un attimino più di tranquillità, un po' più di lucidità su quello che c'è da fare. E' ancora ingarbugliata la situazione a Boiano, onore ai giovanissimi ragazzi di Giovanni Menna, che domenica hanno impensierito e non poco la Iesina, ma questo non è bastato per invertire il trend negativo che dura da cinque settimane. Biancorossi senza guida tecnica da 15 giorni. Parte domani l'avventura di alcuni giovani molisani agli europei di karate, che si svolgeranno in Inghilterra fino a lunedì prossimo. I ragazzi sono accompagnati dal maestro Adelindo Didonato VII Dan nel Catà. Sarà impegnata Marta Peccianti. Marta Peccianti impegnata con gli europei di karate in Inghilterra dal 16 al 21. Tu che disciplina andrai ad affrontare? Io parteciperò nella disciplina del Catà, singolo, perché può essere fatto anche a squadre, che brevemente consiste in una serie di tecniche che simulano un combattimento immaginario. Quindi al di là della forma, che può sembrare anche vuota e priva di significato, c'è un grande contenuto e una grande importanza per lo stesso karate. E' il primo anno che affronti gli europei? No, l'ho affrontati anche l'anno scorso, però, che si sono svolti in Serbia l'anno scorso, ma quest'anno è decisamente diverso. Sono passata a una categoria successiva, mi sono allenata molto più duramente di più e quindi anche le aspettative si promettono buone. A quanti anni hai iniziato? Io ho iniziato non molto presto, in realtà. Ho iniziato cinque anni fa. Però la mia passione è stata subito rivolta al karate, mi sono subito sentita portata, quindi anche non iniziare prestissimo da bambini non è un handicap per questo sport. Ecco, quanto lavoro c'è dietro e soprattutto per arrivare a questi livelli? Parecchio. Soprattutto ci vuole molta determinazione, perché le fatiche si superano, ci si allena, ci si fa anche male certe volte, ma il tutto si supera con la determinazione di chi vuole raggiungere un obiettivo e vuole seguire questa via del karate. Lunedì prossimo, in occasione della giornata azzurra, sarà in Molise Simone Pianigiani, commissario tecnico della Nazionale Italiana di Pallacanestro. In mattinata Pianigiani contrerà la stampa alle autorità regionali e provinciali, visitando la sede del Consiglio regionale di Campobasso e la sede dell'Aggiunta regionale. Nel pomeriggio invece si passerà direttamente al campo, dove Andrea Capobianco, responsabile settore squadre nazionali, e Antonio Bocchino, tecnico del settore squadre nazionali maschili, dirigeranno gli allenamenti di una selezione formata dai migliori ragazzi regionali. In serata poi il ricco programma si concluderà con un clinic per allenatori, relatori lo stesso Simone Pianigiani, Francesco Cuzzolin, preparatore fisico della Nazionale Italiana, Andrea Capobianco e Maurizio Cremonini, responsabile, quest'ultimo, responsabile nazionale del mini-basket. Per il calcio d'eccellenza il Campobasso in ottica, big match domenica all'antistadio Agli, arriva il Fornelli, le due pretendenti alla vetta. Oggi Rosso-Blu possono contare su tre punti di vantaggio, ma tornando al match di domenica a Campomarino, ai nostri microfoni il portiere Rosso-Blu. Catenari, il Campobasso vince in generale, si è sofferto però? Sì, oggi è stata una grande e dura battaglia. Durante la settimana il mister ci ha accennato, ci ha parlato di questa squadra che è abbastanza... cioè, in casa è molto difficile da battere. Noi siamo stati bravi a sfruttare una situazione di gioco che era a nostro favore, a parte il rigore, che secondo me è stato bravo il portiere a pararlo. Senti, dobbiamo dire che si è sofferto sia per quello che ha prodotto la gliternina, specie nel primo tempo, ma anche perché il Campobasso non è stato brillantissimo. Lo diciamo per la cronaca, non perché vogliamo trovare il pelo nell'uovo, però non è stata una squadra troppo brillante. Beh, loro il primo tempo ci hanno messo in difficoltà. È vero che noi, secondo me, il secondo tempo abbiamo fatto meglio, però è vero che noi il primo tempo siamo stati abbastanza in difficoltà, grazie a Omei, per colpa dell'organizzazione della squadra avversaria. Senti, possiamo dire problemi di approccio mentale. Qualcuno pensava che la partita fosse già vinta, prima della stessa? No, assolutamente no, perché, ti ripeto, il mister durante la settimana ci ha avvisato che andiamo ad affrontare una squadra dura e difficile da ripetere, da abbattere. Il Fornelli domenica prossima, lì già si può decidere che cosa, secondo te? Beh, sinceramente... O è troppo presto, la settima di andata? Beh, siamo all'inizio, siamo solamente alla settima di campionato, però è anche vero che vincere già uno sconto diretto adesso ci dà ancora più forza. La Cliternina ha messo in salita la gara per il Campobasso, merito ad una squadra giovane che ha offerto un'ottima prestazione. Tra i protagonisti indiscussi, il giovane portiere adriatico Colanero, un ragazzo del 96, autore di molte parate, tra cui anche un rigore. Giuseppe Colanero, portiere della Cliternina, praticamente sei su tutte le cronache molisane per questo rigore parato a Lazzarini, oppure sbagliato da Lazzarini? Come si dice in questi casi? Parato da Colanero. È stata una bella parata. Giusto, è stata una bella parata perché? Perché era difficile. Diciamo che tu hai aspettato l'ultimo momento per tuffarti. Ho aspettato l'ultimo momento, poi ho guardato anche il movimento che faceva il giocatore. È un bel giocatore che si è dimostrato anche in altri casi. Nello stesso tempo era anche angolata la traghettoria. Ci sono arrivato con la Manuno. Senti, al di là del rigore hai anche fatto delle belle parate, delle girate da parte di Vitelli del Campobasso. Sì, belle parate sicuramente. Hai dimostrato buona personalità? Ho una buona personalità. Abbiamo sbagliato al gol in fase difensiva, abbiamo calcolato male l'occasione. Sul gol non ci potevi fare niente? Forse potevo partire prima, però come si dice, quando ti trovi dentro è diverso. Dimostri veramente di avere una buona personalità anche dalle risposte che dai ai giornalisti? È la mia personalità, non nascondo niente. Senti, di dove stai tu? Sanseviro, Foggia, provincia di Foggia. Senti, questa gliternina la condurrete alla salvezza? Dura la salvezza, ripartiremo subito da Montanillo. Facciamo questa vittoria e continuiamo così. E devi parare sempre così bene? Spero, ci alleniamo e pariamo bene. Oggi ripresa degli allenamenti per il Fornelli. La squadra e i tifosi si stanno preparando per la trasferta di Campobasso. Tornando alla vittoria di misura sul Roccaravindola, ai nostri microfoni Fabio Cifani, match winner. Cifani, grandissima vittoria. Ci hai provato tante volte, alla fine è arrivato il tuo gol. Sì, oggi sono arrivato molte volte verso il portiere, ho coppito un palo, uno l'ho sbagliato e un altro l'ho messo dentro. La meta è buona, dai. Sì, è una grande partita. Comunque da merito anche a Roccaravindola. La difesa vi ha saputo tenere, però alla fine li siete riusciti a superare. Sì, oggi abbiamo cambiato un po' la formazione, come avete visto. Guadagno ha giocato centrale insieme a me perché eravamo decimati. Il nostro sport è stato coppito da un'influenza, 4-5 giocatori importanti. Ci siamo adattati un po' alla situazione oggi, anche se loro si sono difesi bene. Poi fortunatamente è arrivato questo gol, che si è sbloccato la partita e abbiamo avuto occasioni a raffica. In effetti si è sentita la mancanza di Grillo, che comunque ha giocato al secondo tempo, però non era in piena forma. Poi in Fimo, dai, si è sentita, però alla fine non è andata malissimo per te, guadagno stare lì davanti. No, non è andata male, però abbiamo cambiato qualcosa e quando cambi in una squadra così giovane si sente un po' l'equilibrio. Non andavamo bene sulle fasce. E poi dopo il gol, secondo me, abbiamo giocato meglio perché abbiamo tolto un po' di tensione d'adosso. Quindi continua questa lotta con il campo basso, vediamo. Domenica c'è la partita al campo basso e noi la proviamo con tranquillità. Decisiva no, ci sono altre partite. Anche il campo basso ha potuto sbloccare alla fine la partita a Cliterno. È un campionato strano perché ci aspettano, siamo noi a campo basso, siamo tutti dietro e se viene una giornata storta è difficile sbloccare la partita. Freccette si svolgerà domenica, il secondo trofeo soft dart. La gara è aperta a tutti i tesserati e non maschile e femminile. Le iscrizioni verranno chiuse solo 30 minuti prima dell'inizio della gara. La chermessa preinizio alle 15 al number one club incontrata con le delle api a campo basso. Da notare anche la presenza della Fidart Coffee Game. Nell'occasione prenderanno parte alla manifestazione anche alcuni giocatori di Serie A. Torniamo al calcio. Campionato di promozione nell'anticipo di sabato. Il Toro ha ospitato e battuto il Real Termoli. A fine gara i due allenatori. Franco Longo, la vittoria del cuore, la vittoria della squadra. Battuto il Real Termoli, una delle compagini migliori. Una vittoria meritata. Sì, una vittoria che i ragazzi hanno voluto fortemente in settimana. Si sono allenati in maniera molto molto seria, con molta carica. Per cui oggi l'hanno dimostrato in gambo e poi hanno dimostrato anche il loro valore con una grandissima squadra. Di questo sono contentissimo. Però mi dispiace per alcuni punti persi per la strada, specialmente domenica scorsa. Però mi ha fatto piacere ritrovare una squadra combattiva, una squadra che rispecchia veramente la società e il mio carattere. Quello che volevo. Dunque c'è tanto entusiasmo adesso intorno a voi, anche con la società, soddisfattissima per questo risultato. Avete fatto anche contenti, anche i supporters che vi seguono. Bisogna continuare così. Ma veramente, da parte della società c'è stata sempre la massima disponibilità. Ci sono stati sempre vicini. Al di là della vittoria di oggi, però c'è stata sempre vicini. Tanto è vero che ieri alle 10 e mezza stavamo sul campo. Insomma, gente della società, gente che fa un altro tipo di lavoro che passava nel campo. Insomma, questo fa capire come ci viene la società per questa squadra di calcio. E io non sono veramente fiero di poter allenare questa squadra. Giovanni Guglielmi, dunque una gara, diciamo, storta. Avete subito un po' la pressione del Toro. Avete avuto tante occasioni per rientrare in gara, ma la sfera non è entrata. Dunque è una giornata nuova anche per Mucci. E uscite sconfitti dal campo del Toro. Ma, dici bene, tutto quello che hai detto, purtroppo è una partita storta. Potevamo rientrare in partita, però diciamo che l'1-2 dell'autogol del rigore inesistente, secondo me lo posso dire tranquillamente, ci ha piegate un po' le gambe. Poi ci si è messo Mucci che si è mangiato un minimo tre occasioni davanti al portiere, anche se era un po' all'esterno della porta, però aveva un ampio spazio per mettere la palla dentro. Però, naturalmente, non so se avete visto anche voi dalla tribuna, ha fatto casino tutto il secondo tempo con i giocatori, con il mister, con i dirigenti del Toro. Naturalmente questa è anche una politica. Noi siamo dei ragazzi retti, corretti. Perdiamo, non ci sono problemi. Però noi non andiamo da nessuna parte a attaccare i giocatori, gli avversari, i dirigenti avversari. No, noi siamo una squadra limpida, vuole giocare a calcio quando ce lo fanno giocare. Quando ce lo fanno giocare, diciamo che questa è come la partita del Quercus. Lì però, diciamo, eravamo in vantaggio, ci siamo mangiati tanti gol. Poi alla fine abbiamo preso cinque noi. Oggi avevamo ripreso il pareggio, però poi alla fine con l'1-2 ci hanno piegato le gambe. Abbiamo reagito, però diciamo che il risultato fosse giusto. È terminata a rete inviolate il derby tra Acli e Molise. Un punto a testa per le due matricole. Per i locali Minichillo, per gli ospiti, Ciarlarello. Siamo con Alex Minichillo, attaccante delle Acli Campobasso. Alex, una partita abbastanza brutta e un risultato di 0-0 abbastanza scritto e meritato. Sì, purtroppo le occasioni da rete sono state pochissime. Ci sono stati alcuni episodi in cui, secondo me, c'era qualcosa in più da dare dall'albitro. Però purtroppo la partita è andata così, prendiamo questo punto e continuiamo ad andare avanti così. Forse era importante smuovere la classifica dopo la debacle di domenica scorsa contro il Vinchiaturo e la partita di mercoledì di Coppa Italia si è sentita anche un po' la stanchezza. Sì, sì, è vero. Si è sentita un po' la stanchezza rispetto agli altri. Però purtroppo le partite bisogna farle. Ci sono anche i turnover, ma a volte bisogna giocare e dare del meglio. Purtroppo oggi è stata una partita così così, è vero. Abbiamo perso due punti, ma abbiamo guadagnato sempre un punto. Meglio un punto che zero punti. Adesso dove in Iarossi andrete a Spinete, una delle squadre ancora ferme in classifica. Sì, purtroppo andiamo là sempre con la voglia di far bene, di vincere. Siamo con Ciarrariello, difensore centrale dell'FC Molise. Un 0-0 giusto forse questo maturato qui. Abbiamo visto molta stanchezza e poche occasioni da gol, a parte il rigore fallito da Amorosa. Sì, entrambi reduci dall'andata di Coppa Italia. Ma è stata una bella partita compattuta. Il pareggio secondo me è giusto, anche se poi abbiamo avuto l'opportunità del calcio di rigore. Ma purtroppo è stato bravo il portiere Vitone a pararlo. Noi come obiettivo abbiamo quello della salvezza e ogni domenica cerchiamo di portare punti in classifica. Si smuove adesso la classifica, andate a quota 6, ma comunque dopo l'ottima prestazione di domenica di mercoledì contro il Campobasso, comunque qui forse in un derby si è fatto sentire anche il nervosismo del derby Campobassano. Sì, ci troviamo a fare bella figura. Poi comunque da queste prime partite ho visto che è un campionato molto equilibrato. Infatti secondo me sarà equilibrato fino alla fine, non c'è una squadra che comunque se ne sta andando oppure fa la differenza rispetto alle altre. Ogni domenica è una storia a sé e poi è l'episodio che determina il risultato. L'Olimpia Riccia se nel debutto in campionato aveva rimediato una sconfitta, nelle ultime 5 giornate ha sempre aggiunto punti in classifica. L'ultimo successo è arrivato proprio domenica contro la Maronea, ne abbiamo parlato con Polzella. Fabrizio Polzella, Olimpia Riccia, è arrivata la quarta vittoria consecutiva, anche se sul finale avete tribolato un po'. Vabbè, non penso sul finale, se vediamo la partita penso dall'inizio. Sì, sì, nel senso del gol. Purtroppo nel primo tempo abbiamo sbagliato due gol, poi dopo quando capita con le giornate che la palla non vuole entrare neanche se... Sembra che la palla non entra neanche se fai 300 occasioni gol, però... Vediamo la partita, penso che abbiamo dominato, abbiamo avuto possesso palla per tutta la partita, abbiamo creato 10 palle e gol. Penso che più di questo veramente non potevamo fare. Dopo le occasioni sprecate sul finale sono arrivati due gol, il secondo porta la tua firma, abbiamo visto un grido di liberazione dopo le tante occasioni davvero sprecate nel primo tempo. Sì, sì, va bene, liberazione perché il primo tempo ho avuto una palla gol dove non l'ho fatto, ho sbagliato, purtroppo capita anche, capita certe volte di sbagliare, però voglio dire ci può stare, insomma, l'importante erano i tre punti e il gol fa sempre piacere. Diamo un'occhiata anche ai risultati che sono maturati in questo fine settimana nel campionato di seconda categoria. Il girone A, Mignano, San Giorgio, Scapoli 5 a 2, Cep, Sangro 2 a 1, Doinkes, Domenico Desisto 2 a 0, Monteroduni, Filignano 3 a 1, Pesco Pennataro Mastrati 3 a 1, Valle Agricola, Matese 2 a 3, ha riposato Ala Fidelis. In testa alla classifica troviamo Cep, Athletic, Mignano e Matese a 6 punti. Andiamo a vedere i risultati del girone B. San Pietro in Valle, Amatori Boiano 1 a 1, Chiauci Salcito 1 a 0, Macchiagodena Sant'Angelo 0 a 1, Pescolanciano Macchiagodena 4 a 0, Roccamandolfi Torella 4 a 4, Torella del Sannio, Bagnolese 2 a 0, ha riposato Castro Pignano. In testa al girone B, Sant'Angelo a quota 6, Amatori Boiano e Pescolanciano 4. Andiamo al girone C, i risultati. Carlantino Campolieto 3 a 0, Celenzia San Giovanni Ingaldo 0 a 2, Montagano Bussese 2 a 0, Gambatesa Fiamma Folgore 2 a 3, Reds Valle del Tamaro 2 a 0, San Marco Lacatola Riccia 2 a 3, ha riposato 3 archi. In testa al girone C abbiamo Carlantino, Riccia e Fiamma Folgore a quota 6. Infine i risultati del girone D, Castellino Rotello 1 a 2, Mundimitar Mafalda 3 a 0, Moncciufuni Atletico Limosano 2 a 3, 4 Torri Isola Croata 5 a 0, San Felice Roccapivara 4 a 1, Terventum Ripabottoni 0 a 0, ha riposato Porto Cannone. In testa al girone D troviamo a quota 6 San Felice, poi Mundimitar, Ripabottoni e Limosano 4 punti. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio. Grazie a tutti.